Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, Partito Democratico, non solo Partito Democratico, ma a quanto pare segretario del Partito Democratico. Quello lo vedremo, lo decideranno gli elettori che il 26 febbraio andranno a votare alle primarie se sarà confermato quello che sta uscendo dai circoli, cioè che io e gli Schlein saremo in testa e quindi i due selezionati, però devono ancora terminare i congressi di circolo. E poi state già litigando sul numero dei votanti, che ha votato numeri fasulli, no? Guardi, io non mi sono permesso di fare alcuna dichiarazione perché... Non è un bel modo di iniziare, diciamo. No, ma le spiego perché. Io ho detto che se diventerò segretario a Eli Schlein, a Paola De Micheli, a Gianni Cooper, lo chiederò una mano subito, se vorranno. Se dovesse prevalere qualcuno o qualcuna di loro, io senza chiedere nulla per me, se vorranno darò una mano. Perché io in questi anni, ecco perché non mi sono permesso di intervenire, ho sofferto tanto in questi anni delle risse e delle liti all'interno del gruppo dirigente del Partito Democratico che secondo me hanno stancato e allontanato tanti nostri elettori. Noi stiamo discutendo di chi? Stiamo discutendo del fatto se darà una mano o no, ma darà una mano a cosa? Perché cos'è il Partito Democratico? Il Partito Democratico, a mio parere, deve essere percepito come il più grande partito laburista del Paese. Che vuol dire partito laburista? Che mette il lavoro al centro delle proprie politiche. Le faccio un esempio. Noi avevamo detto che avremmo introdotto il salario minimo legale dove non arriva la contrattazione collettiva e non ce l'abbiamo fatta mentre governavamo. Se divento segretario, la prima grande battaglia e campagna popolare che faremo è andare davanti ai bar, ai luoghi di lavoro, nelle piazze e ai mercati. Una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale perché è vergognoso, non è degno di un Paese civile che ragazzi e ragazze lavorino a 2-3-4 euro l'ora. Però le voglio dire un'altra cosa. Troverete lavoratori subordinati e anche autonomi, sì, lo sa. Assolutamente. Lei ha detto benissimo. Volevo dire questo. Abbiamo il tema degli operai, dei precari. Finché il lavoro precario costerà di meno di quello stabile, non possiamo combattere la precarietà. Per questo la destra mette la tassa piatta, noi dobbiamo tagliare il costo del lavoro. Secondo me serve una decontribuzione secca del 30% per i nuovi assunti con contratti a tempo di lavoro stabili. Però ha ragione lei sul tema dei lavoratori e lavoratrici autonomi. Pensi che dopo il voto delle politiche mi ha fermato a Bologna un ragazzo di 31 anni, mi ha detto sono qui con mia moglie di 28, siamo due partite IVA, di noi avete parlato male perché avete lasciato che solo la destra si occupasse di noi. E io credo che abbia ragione. Noi abbiamo perduto, secondo me, ho regalato milioni di voti di partite IVA, lavoratori autonomi, lavoratrici autonomi, liberi professionisti e mi ha detto ci avete complessivamente configurati come fossimo tutti evasori fiscali o benestanti. Ma non siamo tutti così. Un quadro perfetto. Le farei vedere perché non abbia nulla da nascondere il nostro conto corrente. Tra entrate e uscite si accorgerebbe come facciamo fatica a fine mese. E senta il pugno nello stomaco in un paese che avrebbe bisogno di natalità, non di natalità. Per fortuna che non abbiamo figli. Ecco perché la lotta al precariato è il primo impegno che il Partito Democratico deve prendere. Perché c'è una intera generazione o quasi che vive quella condizione e non può avere fiducia ovviamente nel futuro. La stupità, Giorgia Meloni. Le faccio un esempio. Lei parla di economia. I conti sono a posto. Arrivavano i populisti, arrivavano i sovranisti. Lei stessa diceva usciremo dall'euro, la sospensione dell'euro. Invece su quel fronte tranquillizza, tranquillizza parecchio. Sì, io credo che lì abbia tranquillizzato, consapevole anche che non poteva fare altrimenti. Però queste prime settimane di governo sono state molto deludenti. Avevano promesso di ridurre il costo della benzina e diventata la più alta d'Europa. Avevano detto che avrebbero risolto i problemi del PNRR, ma ancora non c'è una convocazione come chiedo da mesi per discutere dell'aumento dei prezzi, che sta fermando cantieri aperti e rischia di far andare deserti le gare per altre con miliardi di euro che potremmo e dovremo investire per far ripartire il Paese. Perché sono tarati sui prezzi di prima dell'inflazione. Sì, stanno tagliando addirittura nella sanità pubblica e questo è un problema drammatico. Si torna sotto al 7% dopo anni e anni di rapporto tra spesa pubblica e PIL. Ma vede, noi non è che dobbiamo combattere la ricchezza, noi dobbiamo combattere la povertà. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno di investimenti per una crescita sostenibile. Lo dico perché anche nel dibattito del Partito Democratico, sentir dire che si vuole combattere le disuguaglianze o dare qualcosa a chi è povero, io dico bisogna farlo uscire dalla povertà. Prima bisogna rispondere a una domanda. Chi crea la ricchezza attraverso la quale io posso distribuire a chi è povero? Questo è il nostro compito. Io penso davvero che il governo sia stato deludente e la vicenda cospito mi permette che vorremmo comprire un po' di problemi. Ora faremo un confronto tra lei e il direttore libero Alessandro Sallusti, più tardi in puntata, ma ora il nostro dibattito che seguirà questa intervista sarà molto centrato sul caso cospito. Come se lo spiega? Con un errore del PD che ha mandato ben quattro persone, quattro persone importanti a trovare un condannato al 41 bis o con una destra che sfrutta un tema della legalità che l'ha sempre premiato? È la seconda che ha detto, anche perché nelle prorogative dei parlamentari c'è di andare a verificare le condizioni carcerarie per chiunque e chiunque in questo paese che sta in carcere, se siamo degni di un paese civile, ha il diritto di essere curato. Ed è una scivolata di Donzelli o è un mandato di Giorgia Meloni? No, io non credo proprio a un mandato di Giorgia Meloni, io penso a una scivolata pesante, grave di Donzelli e di Dalmastro che io credo meriterebbero le dimissioni, anzi io mi sarei aspettato che le dessero loro. Vede? Il punto è però essere molto fermi. Il 41 bis è uno strumento indispensabile per la lotta alle mafie e ai terroristi. E cospito non è in carcere perché è un anarchico, è in carcere perché è stato condannato e quindi su questo molto fermi è inaccettabile che si siano permessi, quei due esponenti fratelli d'Italia, di accostare il Partito Democratico e quindi tutti noi a un cedimento su mafia e terrorismo, ma non scherziamo. Se funzioneranno le autonomie e lei avrà il compito di organizzare la scuola in Emilia Romagna, insegnerà a sparare? No, vorrei che al governo evitassero di sparare Bagianate, perché quello che ha affermato il sottosegretario è gravissimo. Grazie Presidente, ci vediamo più tardi per il confronto con Alessandro Sallustri.